qui perché quando cambia la temperatura c'è un problema di settaggio perché lo settano il pomeriggio e noi la sera sentiamo tutti gli anni all'inizio dell'inverno che è troppo freddo, il giorno dopo glielo comunichiamo e la prossima volta sarà più caldo, però se sentite freddo state coperti perché insomma io sento che è più freddo, insomma un po' più freddino, mi dispiace ma tutti gli anni è così. Va bene, allora diciamo, allora intanto benvenuti, questa sera il nostro speaker è il professor Stefano Forte è un ordinario di fisica teorica, lavora all'università di Milano, prima di questo è stato ricercatore INFN cioè dell'istituto nazionale di fisica nucleare, prima a Torino e poi proprio qui da noi a Roma 3 prima di diventare ordinario a Milano. Prima di questo è stato al CERN, è stato a Parigi, ha fatto gli studi di dottorato e quindi ha preso il PhD al prestigioso Massachusetts Institute of Technology, è un grande esperto della teoria dell'interazione forte della struttura del protone, tra l'altro la struttura, diciamo la conoscenza profonda della struttura del protone è importante, è stata importante per la scoperta del bosone di Higgs sul quale avete sentito molti seminari. Ha svolto e svolge a tutt'oggi ricerca anche presso il CERN a Edimburgo, all'università Paris X Pierre Marie Curie di Parigi, a Copenhagen e a Lione. Questa sera ci parlerà di che cos'è un'interazione fondamentale, grazie Stefano. Grazie, grazie Paola per questa bellissima introduzione, per avermi invitato, sono molto lieto di essere qui con voi sono lieto che faccia un po' freddino così non verrà sonnolenza, anzi conto sul fatto che si alzi la temperatura magari con un po' di interesse e di domande. L'argomento di cui vi vorrei parlare questa sera parte da un insieme di riflessioni su temi che forse sono ovvi per la maggioranza dei miei colleghi di quelli che si occupano come di fisica teorica delle particelle e che però sono riflessioni magari ovvie ma in linea di massima inespresse, che non si fanno perché magari, non so, si ha un po' di paura a porsi certe domande o semplicemente perché si ritiene che non sia necessario. Io sono stato in un certo senso obbligato a iniziare a pormi queste domande perché quando, ormai molti anni fa, una quindicina di anni fa sono diventato professore a Milano, per combinazione il primo anno in cui ho dovuto insegnare mi è toccato di insegnare un corso che si chiamava Teoria delle interazioni fondamentali. Ora, naturalmente quando si fa un corso è buona norma spiegare alla prima lezione qual è l'argomento del corso, insomma spiegare il titolo del corso stesso e mi sono reso conto con un certo imbarazzo che se avessi dovuto rispondere alla domanda che vuol dire parlare di interazioni fondamentali, ecco la risposta non sarebbe poi stata completamente ovvia insomma ci ho dovuto pensare su, ho dovuto passare un paio di giorni, forse una settimana a chiarirmi le idee anche perché per combinazione appunto di corsi da fare, quell'anno me ne sono toccati due, uno era Teoria delle interazioni fondamentali e l'altro era meccanica quantistica e mettendo assieme le due cose mi sembrava quasi, pensandoci che la meccanica quantistica mi dicesse che interazione fondamentale è un concetto che non ha molto senso e quindi insomma mi trovavo un po' in imbarazzo da dover insegnare due materie i cui titoli almeno sembravano essere contradditori. Allora mi spiego, spiego che cosa voglio dire. L'immagine che mostra questa diapositiva, l'avete vista forse sul poster della serie, è un'immagine presa da un lavoro di Maxwell, il padre dell'elettromagnetismo, il quale come la maggioranza dei fisici suoi contemporanei pensava, come si pensava appunto nell'Ottocento, che tutto si potesse ridurre alla meccanica. Nell'Ottocento che cosa fosse un'interazione fondamentale? Era chiarissimo a tutti, un'interazione fondamentale era quella cosa che si trova quando si prende quello che si vede e si cerca di spiegarlo in termini di costituenti più piccoli. di questi costituenti più piccoli ci sono sempre, si pensava, e molto probabilmente sono meccanici. Tanto che Maxwell, che ha formulato la teoria dell'elettricità e del magnetismo, che tuttora usiamo e che funziona benissimo, però nella sua mente aveva l'idea che sotto i campi elettrici e magnetici ci fossero degli ingranaggi. E questo disegno è proprio preso da un suo lavoro in cui sulla base di un suo modellino meccanico ha ricavato le equazioni di Maxwell. Le equazioni sono giuste, ma il modellino che lui aveva in mente oggi ci sembra una cosa piuttosto buffa, obsoleta. La ragione per cui ci sembra buffa e obsoleta è quella per cui, appunto, vi dicevo che questa idea di cosa più fondamentale, di costituenti elementari, sembra contraddire la meccanica quantistica, perché in meccanica quantistica, diciamo, noi oggi sappiamo che quando si va a distanze molto corte, quando si va a guardare cosa succede dentro le molecole, per esempio, dentro gli atomi o dentro i nuclei atomici, la fisica diventa quantistica e la fisica quantistica ha tutta una serie di caratteristiche piuttosto strane, interessanti, di cui magari avete sentito parlare in altri incontri di questa serie, una delle quali è che vale il principio di determinazione del quale sicuramente avete sentito parlare. Allora, il principio di determinazione è una cosa che ha tante manifestazioni, si può dire in tanti modi, ma una delle sue conseguenze è che se uno prende un oggetto quantistico e ci guarda dentro, il numero di cose che ci sono dentro non è fissato. Quindi, per esempio, se io prendo un protone e vado a vedere quanti costituenti ci sono dentro al protone, il protone non è un oggetto elementare, forse avete sentito parlare del fatto che il protone è fatto di quark. Ecco, il numero di quark che stanno seduti dentro un protone non è fisso, non solo non è fisso, ma più guardo dentro il protone e più ne trovo di costituenti e con caratteristiche diverse e naturalmente questo sembra suggerire che questa idea per cui c'è qualcosa di più fondamentale perché c'è un costituente non ha molto senso perché, insomma, se il numero di costituenti non è neanche ben determinato, addirittura la natura dei costituenti non è ben determinata, che vuol dire che c'è qualche cosa dentro. Quindi questo suggerisce che nulla sia fondamentale. Ecco, d'altra parte, interazione fondamentale era il titolo del mio corso, oltre a essere il titolo del mio corso, se voi prendete per esempio Wikipedia, cercate su Wikipedia interazioni fondamentali, potete cercare in tutte le lingue, è più o meno uguale, c'è scritto le interazioni fondamentali, sono le interazioni della natura, eccetera, eccetera, sono state individuate quattro forze interazioni fondamentali, gravitazionale, elettromagnetica, nucleare e debole, nucleare e forte. Se chiedete a qualunque fisico o anche professore che insegna la fisica, non so, al liceo, quali sono le interazioni fondamentali, vi dirà, sono quattro e sono queste quattro. Allora, che vuol dire che ci sono quattro interazioni fondamentali se vi ho appena detto, ma insomma, che questa idea dei costituenti fondamentali non sembra essere molto sensata. Ecco, questo fa nascere tutta una serie di domande, no? Quindi le interazioni fondamentali uno penserebbe qualche cosa che ha a che fare con i costituenti, con le particelle elementali, che cos'è una particella elementare? Che cos'è un'interazione e che cosa significa fondamentale? Ecco, quello di cui vi vorrei parlare oggi è cercare di rispondere con ordine a queste tre domande, no? Che cos'è una particella elementare, che cos'è un'interazione e che cosa significa fondamentale? Allora, iniziamo dalla prima, che cos'è una particella elementare. Allora, forse qualcuno di voi si ricorda o ha notato che a luglio dell'anno scorso, su molti giornali, questo è il sito internet dell'ANSA, è comparsa la notizia scoperta una nuova particella elementare, scoperta c'era una particella inseguita ad anni. Questa è una notizia che è comparsa molto sulla stampa italiana, perché la notizia è stata presentata a un congresso della Società Europea di Fisica che si svolgeva a Venezia. è comparsa ancora di più sulla stampa pugliese, dove il titolo era Due fisici di Bari scoprono una nuova particella fondamentale, potete verificare. Sulla stampa europea in genere c'è un articolino, sulla stampa mondiale, non so, su New York Times la notizia non c'era nemmeno, uno diceva ma come hanno scoperto una particella fondamentale e nessuno ne parla, perché? Ma allora, che cos'è una particella fondamentale? Un modo molto stupido per rispondere alla domanda potrebbe essere di dire, ma guardate ci sono delle tavole, queste tavole una volta venivano pubblicate sotto forma di un librone che ogni due anni veniva ripubblicato, un librone grande così, sembrava un volume di enciclopedia, una guida del telefono per quelli che sono sufficientemente vecchi da ricordarsi ancora le guide del telefono, adesso è un sito internet naturalmente, che raccoglieva tutte le proprietà delle particelle. Quindi questo librone è un elenco di particelle, allora questo è il sito internet, allora uno può andare dentro il sito internet, prendiamo una particella elementare, l'elettrone, che è una particella elementare e vediamo, allora vabbè, l'elettrone è una particella elementare di un certo tipo che si chiama leptone, ma questo non importa, e l'elettrone sulla tavola è una cosa in cui ci sono scritti un valore di una quantità che si chiama j, che si chiama spin, e un valore della massa. Allora, la massa più o meno sapete che cos'è, la massa è quella cosa che ci dice quanta fatica si fa per mettere in movimento un oggetto, un camion ha una massa molto grande, quindi è faticoso da spostare, invece una piuma ha una massa piccola, quindi basta una piccola forza per farla saltare via, questa è la massa. E questo j, lo spin, questo è un po' più complicato da spiegare che cos'è, ma in realtà si può spiegare nel modo seguente, allora si dà il caso che gli oggetti elementari, come l'elettrone, hanno come più stati, è come se non ci fosse un elettrone solo, un elettrone può vivere in più stati diversi. Lo spin è quella cosa che dice in quanti numeri di stati può vivere un elettrone, in particolare per ragioni che sarebbe un po' lungo spiegare, j uguale a un mezzo vuol dire che l'elettrone può vivere in due stati, se j fosse uguale a uno potrebbe vivere in tre stati, a tre mezzi, quattro stati e così via, quindi il numero di stati si fa moltiplicando per due questo numerine aggiungendo uno, vabbè, insomma. Quindi la particella elementare è un oggetto che è caratterizzato dal fatto di avere la massa e di poter vivere in un certo numero di stati, questo è quello che noi chiamiamo particella elementare. Voi direte, vabbè, questo ce lo dice lei, perché? Perché questa è una particella elementare? Allora, la ragione per cui una particella elementare è questo, è un oggetto che ha una massa e un numero di stati, uno spin, ha a che fare con quello che noi sappiamo della simmetria dell'universo, questa è una foto, diciamo, una rappresentazione della radiazione cosmica di fondo di tutto l'universo che si caratterizza per il fatto che tutto l'universo è pieno di perturbazioni, non è tutto uguale, da qualche parte c'è una galassia, da un'altra parte c'è una stella, però non ha un centro, non ha una direzione privilegiata, non ha un sopra e un sotto, l'universo in tutte le direzioni ha lo stesso aspetto, l'universo, noi diciamo, è omogeneo e isotropo, vuol dire appunto che se noi ci mettiamo in un punto qualunque dell'universo, qualunque punto è uguale a qualunque altro punto, poi magari da qualche parte c'è una stella, però non c'è nulla che caratterizzi una direzione, non c'è un alto, un basso, una sinistra, una destra, appunto, tutte le direzioni sono uguali, eccetera. Allora, si dà il caso che la massa e lo spin, la massa e il numero di stati, sono le uniche due proprietà che non cambiano, che rimangono uguali da qualunque parte uno le guardi, se la guarda da sopra o da sotto, sinistra o destra se uno le gira, se uno lo sposta in un altro posto, ci sono solo due proprietà, questa è una cosa che si può dimostrare matematicamente, credetemi, ma insomma è un fatto che segue dai principi di base della fisica e della matematica e quindi la particella elementare noi diciamo è quell'oggetto che ha solo massa e spin, cioè è elementare nel senso che ha le uniche due proprietà che sono le stesse comunque uno le guardi, quindi in particolare la ragione per cui quella particella di prima è stata celebrata soprattutto in Puglia, un po' meno in Italia, ancora meno in Europa e per è che in realtà non era una particella elementare, come si vedeva anche dal disegnino che mostravo, era insomma un po' come se uno avesse scoperto una lucertola con due teste, diciamo, un oggetto così divertente però che non è veramente una particella elementare, infatti non aveva solo massa e spin, aveva molte altre caratteristiche. Quindi alla prima domanda abbiamo risposto che cos'è una particella elementare e abbiamo anche iniziato a capire in un certo senso quali sono gli elementi da cui partire per cercare di costruire una teoria, i filosofi medievali partivano elencando gli elementi e dicendo ma insomma ci sono il fuoco, l'acqua, sono messi in una certa relazione, un fisico moderno si chiede tanto per cominciare due cose, la prima è come è fatto lo spazio e come è fatto il tempo e quindi in particolare scopre che lo spazio e il tempo come dicevo non hanno un sopra o un sotto, l'universo è lo stesso in tutte le direzioni. Vi faccio notare che questo è un fatto sperimentale ed è un fatto sperimentale tutt'altro che ovvio, Galileo e Newton a suo tempo si sono battuti per dire no guardate non solo la Terra non è al centro dell'universo ma neanche il Sole è al centro dell'universo e la ragione non è perché al centro dell'universo c'è qualche cosa altro, è perché l'universo non ha un centro perché l'universo è tutto uguale in tutte le direzioni, non c'è il centro dell'universo, l'universo è una cosa che è uguale in tutte le direzioni. Naturalmente loro, Galileo e Newton, facevano queste ipotesi sulla base dei dati pochi che avevano, ora queste sono ipotesi che possiamo mettere alla prova in modo molto dettagliato con esperimenti molto precisi come la mappa dell'universo, della radiazione dell'universo che vi ho fatto vedere prima e quindi questo ci dice che lo spazio e il tempo appunto sono fatti in un certo modo, sono uguali in tutte le direzioni. Prima domanda. La seconda domanda è che cosa esiste? Che cosa esiste vuol dire quali sono gli oggetti che sono caratterizzati soltanto da massa e da spin? Beh, questo è una cosa che si scopre andando a cercare questi oggetti e andando a cercare questi oggetti attualmente c'è una lista. Allora, questa lista non ve la voglio illustrare perché sarebbe l'argomento di un'altra conferenza, cioè quali sono le particelle elementari o qual è la teoria attuale delle particelle elementari. Comunque attualmente c'è una certa lista per cui le particelle elementari sono l'elettrone e due fratelli più simili, simili all'elettrone ma più pesanti, i neutrini che sono delle particelle molto leggere, i quark che sono i costituenti del protone con varie versioni e poi delle altre particelle come il fotone che sarebbe la luce eccetera. Allora, noi sappiamo che queste particelle sono tutte quelle che ci sono e sono tutte elementari nel senso che hanno solo massa e spin, non hanno nient'altro, non hanno una struttura dentro, non li posso girare. Come è fatto sperimentare? Lo sappiamo fino a una certa risoluzione, lo sappiamo fino a una risoluzione che è appunto 10 alla meno 19 metri, che è circa 10.000 volte più piccolo di quanto è grande un protone per intenderci. Quindi a distanza molto corta noi sappiamo che questi oggetti non hanno niente dentro, sono elementari nel senso che hanno solo massa e spin e inoltre che non c'è nient'altro, che sono solo questi. Naturalmente questo è fin dove abbiamo esplorato finora, potrebbe arasi che ce ne fossero degli altri. Naturalmente questa lista solleva tutta una serie di domande, alle quali di nuovo non ho modo di rispondere oggi, però vorrei almeno attrarre la vostra attenzione sul fatto che queste domande ci sono, cioè perché ci sono proprio queste particelle qua? Oltretutto se uno le guarda, scopre che queste particelle, vedete c'è anche scritto tre generazioni di fermioni, tre generazioni vuol dire che ci sono tre colonne, uno, due, tre, che ci sono degli oggetti, insomma per ogni oggetto ce ne sono altri due che sono quasi uguali, l'unica cosa che cambia è la massa, per il resto si comportano più o meno nello stesso modo. Perché? Ma non lo so, questo è un mistero e quello che noi sappiamo oggi, quindi questo inizio di costruzione della teoria ci permette di dire che sappiamo come è fatto lo spazio-tempo, sappiamo quali sono le particelle e però restano molti misteri sul perché. Allora, avendo risposto alla prima domanda, passo alla seconda, che è che cos'è un'interazione? Allora, un'interazione è uno scambio di particelle, uno scambio di particelle, non so, dovete pensare appunto a due pattinatori che stanno sul ghiaccio, uno tira una palla all'altro, quello che riceve la palla si prende un colpo perché riceve la palla e quindi va un po' indietro. Allora, quando due particelle elementari fanno qualche cosa l'una sull'altra, lo fanno così, lo fanno buttandosi una terza particella, cioè una volta si pensava magari che ci fossero forze a distanza, ecco, no, per quello che sappiamo oggi tutto quello che succede in natura deriva dal fatto che c'è una particella che butta altre particelle a un'altra particella, quindi un'interazione, quando noi diciamo un'interazione quando noi diciamo l'interazione elettromagnetica, ecco, l'interazione elettromagnetica è questa, sono due elettroni che si buttano un fotone l'uno con l'altro e quindi quando vediamo dei fenomeni elettrici come la luce che viene dalle lampadine qui, non sembra, ma in realtà quello che sta succedendo a livello di particelle elementari è proprio questo, ci sono degli oggetti che stanno buttando dentro alla lampadina, c'è un filamento con degli elettroni, delle cose che si eccitano, che mi buttano dei fotoni e io vedo la luce, tutti vediamo la luce, nel senso che vediamo questi oggetti che ci arrivano addosso. Allora, vabbè, ok, diciamo, questa è un'interazione, naturalmente questo immediatamente fa sorgere la domanda, va bene, e quali sono quindi gli scambi permessi, cos'è che si può fare? Allora, la risposta di ordine zero è che gli scambi permessi sono tutti quelli che non sono vietati. Allora, che cosa vuol dire tutti quelli che non sono vietati? Beh, vuol dire che noi sappiamo, di nuovo un fatto sperimentale, che in natura ci sono delle leggi, dei divieti, delle leggi di conservazione, tutto quello che non è vietato dalle leggi di conservazione succede, è un po' come appunto nella filosofia di Wittgenstein che dice il mondo è tutto ciò che accade, no? Ci sono delle cose che non possono accadere, però tolte quelle tutto il resto accade. Che vuol dire delle cose che non possono accadere? Beh, per esempio, la conservazione della carica è un esempio di divieto. La conservazione della carica cosa vuol dire? Vuol dire che non può mai succedere che a un certo punto ho della carica elettrica che sparisce. Io posso avere dei processi fisici in cui succedono tante cose diverse, ma la quantità totale di carica elettrica è sempre la stessa, non può sparire. Questo si chiama conservazione della carica ed è un esempio di divieto. Naturalmente anche questo è un fatto sperimentale. Sul famoso librone di cui parlavo prima, il sito web, oltre alle proprietà delle particelle, trovate anche appunto le verifiche dei divieti e quindi se andate a vedere test delle leggi di conservazione carica elettrica e ci sono dei numeri molto piccoli o molto grandi, come li vedete, che ci dicono che no, non si è assolutamente mai visto che sparisse o nascesse carica elettrica avendo fatto un numero mostruosamente grande di prove, noi possiamo dire che non si è mai visto sparire carica elettrica. Allora, questo è un esempio, ce ne sono delle altre, per esempio nella tavola di particelle che vi ho fatto vedere prima ce n'erano alcune diverse che però hanno la stessa carica, per esempio un protone e un positrone, un positrone è una specie di elettrone ma con la carica opposta, hanno la stessa carica elettrica, però un protone non può diventare positrone, è vietato anche quello, c'è un divieto apposito che è un'altra di queste leggi di conservazione. Allora, appunto, tutto il resto però accade, per esempio questo evento che è rappresentato da questa bella immagine colorata che è anche la stessa che c'è nella primissima immagine della mia presentazione sotto il mio nome, questo è un evento in cui si produce un bosone di Higgs al CERN, un evento in cui si scontrano due protoni, ci sono due protoni che arrivano uno da questa direzione qua e l'altro da questa direzione qua, si scontrano in qui in mezzo ed esce un mucchio di roba, tra cui un bosone di Higgs, allora tutta questa roba, per esempio, siccome si scontrano due protoni e la carica elettrica di due protoni è due, insomma delle cariche elettriche di tutte le cose che escono deve sempre fare due, questo è sicuro, però a parte quello tutto il resto può succedere, quindi posso fabbricare un nuovo oggetto che prima non c'era perché quello non è vietato, naturalmente si deve conservare l'energia per esempio e quindi la somma di tutte le energie di tutti questi oggetti deve essere uguale all'energia dei due protoni che si sono scontrati e tante altre cose del genere, però per il resto posso anche fare una cosa nuova, è permesso, tutto quello che non è vietato accade. Allora, questo fatto, cioè che tutto quello che non è vietato accade e quindi il mondo, tutto ciò che accade è caratterizzato dai divieti, assume una forma particolarmente bella e profonda che piace ai fisici quando si utilizza un risultato molto importante che va sotto il nome di teorema di Noether. Emi Noether era una grande matematica dell'inizio del Novecento, la quale ha avuto una vita difficile perché ha avuto la disgrazia di essere una donna per giunta ebrea in epoca nazista, ha avuto un mucchio di guai, ma soprattutto aveva il problema che all'epoca uno scienziato donna faceva specie e tanto che quando ci fu la proposta, perché aveva ottenuto risultati molto importanti, di darle un incarico non proprio da professore ordinario ma quantomeno di incaricato di corso all'università di Erlangen, mi pare, i professori dell'università si ribellarono dicendo che non si è mai visto che una donna insegni all'università, al che David Hilbert, che era il più grande matematico tedesco dell'epoca che insegnava in quell'università, famosamente disse che questo è un consiglio di facoltà e non uno stabilimento termale e con ciò terminò la discussione e in base a questo fu permesso a Emi Noether di insegnare all'università, perché appunto la lezione ci sarebbe andata tutta vestita bene. Allora, Emi Noether ha dimostrato un teorema che tuttora è importantissimo nel 1918, che dice che ogni volta che c'è un divieto, ogni volta che c'è una legge di conservazione, per esempio quando è vietato creare carica elettrica, questo avviene perché c'è una simmetria. Allora, che cosa sia una simmetria? È una cosa un po' complicata da spiegare, ma per cercare di rendere, di darvi un esempio concreto, una simmetria è come quando vi dicevo prima il fatto che l'universo sia lo stesso quando lo si guarda in tutte le direzioni, quindi per esempio una simmetria, quando io prendo una cosa e ruotandola su se stessa questa cosa continua a essere uguale, allora dico che c'è una simmetria. Quindi per esempio una palla, un palloncino sferico è molto simmetrica, ha una certa simmetria sferica perché se lo rigiro intorno al suo centro rimane tale quale. Allora, la signora Neuter, la professoressa Neuter ha dimostrato che tutte le volte che c'è un divieto allora c'è una simmetria e viceversa, tutte le volte che c'è una simmetria c'è un divieto e questo vuol dire che le interazioni fondamentali di fatto sono, o le interazioni, tutte le interazioni che possono succedere sono una lista di divieti. Quindi io una teoria di interazione la formulo dando le proprietà dello spazio-tempo, una lista di particelle come la lista che avete visto prima e un elenco di simmetrie. Le simmetrie sono le proprietà di simmetrie, di invarianza dell'universo che conosciamo e questo definisce tutto ciò che può accadere. Ecco, a questo punto resta, quindi con ciò ho risposto quasi a due delle domande, cos'è una particella elementare, che cos'è un'interazione, però non sono ancora arrivato al nocciolo della questione che è quali interazioni sono fondamentali. Quali interazioni sono fondamentali? Allora, vabbè, naturalmente abbiamo detto che le uniche interazioni che possono succedere, le unici scambi che possono succedere tra i pattinatori sono quelli che non violano i divieti, sono quelli che rispettano le simmetrie del problema. Però, posto questo, possono proprio succedere tutti. Per esempio, questi scambi possono dipendere da dove sono i pattinatori, da come sono orientati, dalla loro velocità. Ecco, affrontiamo queste cose. Allora, dalla posizione i pattinatori no, non possono dipendere. Questa è una cosa che ha scoperto Newton tanti anni fa, si chiama terza legge di Newton. Quelli magari che, non so, hanno studiato la fisica al liceo si ricorderanno di questa misteriosa legge di Newton che si può leggere qui nei principi a che dice, dunque, adesso non lo trovo, ah sì, eccola qua, aliqui contrariam semper equalem estem reazione. A ogni azione corrisponde una reazione contraria, una cosa che non si capisce mai che cosa vuole dire. Allora, vuole dire, in realtà, una cosa molto semplice, vuole dire che se io guardo un'immagine come questa, cioè due stelle che stanno in cielo, queste due stelle che stanno in cielo stanno interagendo tra di loro, stanno interagendo tra di loro tramite gravità. L'interazione che c'è tra questi due oggetti non dipende dal fatto che ce n'è uno che attrae l'altro o l'altro che attrae uno, dipende dal fatto che ci sono due oggetti che si attraggono a vicenda. Ed è completamente arbitrario dire se è l'oggetto rosso che attrae l'oggetto blu o l'oggetto blu che attrae l'oggetto rosso. E la ragione è che, appunto, non c'è un centro dello spazio, non ce n'è uno che sta in mezzo e attrae l'altro. Le cose sono uguali dovunque io le metta e quindi, quando io ho due oggetti, questi due oggetti interagiscono tra di loro allo stesso modo dovunque stiano nello spazio e quindi l'interazione è una cosa che riguarda l'uno rispetto all'altro, non riguarda dove stanno da qualche parte. Quindi, di nuovo, le interazioni non dipendono dalla posizione, non dipendono dal fatto che uno sta nel centro dell'universo o no, perché non esiste il centro dell'universo. Di nuovo, ha una proprietà della proprietà. Analogamente, il disegno di prima, l'interazione non dipende dall'orientamento, non dipende dal fatto che io il fotone lo spedisco a destra o a sinistra, sempre perché l'universo è lo stesso in tutte le direzioni. Ecco, quindi, vabbè, queste cose in fondo le avevo già dette in un certo senso, però ve le ho ripetute. Ecco, resta da fare la velocità, no? C'era detto, ma l'interazione può dipendere dalla velocità. Allora, una forza che dipende dalla velocità è una cosa un po' strana. Allora, i prossimi 10-15 minuti sono la parte più difficile di tutta la discussione di questa sera, quindi adesso arriviamo veramente alla parte un po' più sottile. Quindi, state attenti nei prossimi 10 minuti, avete preso il messaggio di tutta la reazione. Il resto non è un po' dettaglio. Allora, una forza che dipende dalla velocità, per capire che cosa ha di speciale, si può considerare un esempio, no? Una forza che dipende che è un paracadute, pari le cadute, perché una persona appesa a un paracadute è soggetta alla forza di gravità che lo farebbe cadere sempre più veloce. E però c'è una forza, che è la forza che esercita la resistenza dell'aria sull'aria, che invece dipende dalla velocità. E questa forza, più si va veloce e più è forte. Quindi, uno inizia ad accelerare, accelera, accelera, questa forza di resistenza diventa sempre più forte finché bilancia esattamente la forza di gravità e a quel punto uno cade a velocità costante e quindi uno non si spiaccica su uno, ma cade a velocità costante se il paracadute è abbastanza grande da produrre una forza che dipende dalla velocità sufficientemente forte. Ecco, una forza che dipende dalla velocità però ha una caratteristica un po' curiosa, cioè che un modellino in scala scenderebbe a una velocità diversa. Mi spiego, questa è la cosa un po' sottile. Immaginate di fare l'esperimento seguente, voi vedete un film, vi fanno vedere un film di un affare che scende con un paracadute, non so, un omino, e dovete capire se è davvero un uomo che scende col paracadute, oppure magari se è una bambola grande così, oppure se è un soldatino grande così. Tutto il resto naturalmente diciamo che sia la bambola che il soldatino sono fatti perfettamente, sono imitati perfettamente, sono esattamente in scala, tutto in scala, anche il loro peso in scala, però la domanda è io guardando il film riesco a capire se sto vedendo l'oggetto vero o se sto vedendo un modellino in scala? Allora c'era un film cartone animato che piaceva molto alla mia bimba che ha otto anni fino a un paio d'anni fa che si chiama Bugs Life in cui c'era una formica che cade con una paracadute fatta a forma di foglia e insomma questo cartone animato è corretto, nel senso che sì, si può capire se il film mostra l'oggetto vero o se mostra un modellino in scala, perché la forza che dipende dalla velocità dipende dalla scala e quindi è in proporzione molto più grande per un oggetto piccolo e quindi per esempio una formica non si spiaccica con un paracadute grande come una foglia che rispetto alla formica è molto più piccolo di un vero paracadute che è un affare gigantesco mostruosamente grande, se io volessi fare scendere un elefante che pesa 10 volte o 100 volte un uomo, non basta prendere un paracadute 100 volte più grande, devo prendere un paracadute molto 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 più grande, non è in scala, ecco, una forza che dipende dalla velocità quindi è speciale perché, non tanto perché dipende dalla velocità, ma perché è una forza che ha una dimensione caratteristica, è una forza la cui intensità dipende dalla dimensione, da quanto è grande, dipende dalla scala, dal fatto che io stia vedendo i film in scala 1 a 1, 1 a 100, 100 a 1, quindi la domanda possono esistere forze dipendenti dalla velocità diventa possono esistere forze dipendenti dalla scala. Allora, forze dipendenti dalla scala, se ci pensate, hanno una proprietà chiara che se io prendo oggetti molto piccoli sono molto sensibili alle forze che dipendono dalla scala, se io prendo un oggetto molto grande è poco sensibile, questa è quella che tecnicamente in fisica si chiama l'approssimazione delle vacche sferiche, questo vuol dire che se io prendo una vacca e la guardo molto da lontano posso anche approssimarla con un pallino sferico perché tanto visto da lontano una vacca è una cosina piccola, piccola, quando vado da vicino vedo che ha tutta una serie di caratteristiche e insomma questo vuol dire che se io voglio vedere la struttura fondamentale devo andare a piccola distanza, nel senso che andando a piccola distanza vedo tutte queste forze dipendenti dalla scala che da grande distanza non vedrai perché a grande distanza un oggetto molto grande queste forze non le vede, se c'è un elefante gigantesco, forze molto deboli non se ne accorge nemmeno, invece la formichina le vede tutte e quindi se voglio scoprire come sono le forze che esistono in natura, vedere tutte quelle che ci sono, avere l'elenco completo devo andare a distanze molto piccole perché se no vedo le vacche sferiche anziché vedere quello che succede veramente. Allora questa, qui arriviamo al difficile, è una cosa che diventa particolarmente sottile quando la metto insieme con la meccanica quantistica perché torniamo al disegno, questo è lo stesso disegnino che vi avevo fatto vedere all'inizio nella seconda immagine che vi ho mostrato quando l'età è la meccanica quantistica, ci dice che se guardo dentro un oggetto, dentro un oggetto ci sono tanti costituenti, il numero di costituenti cresce, 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 più vado a distanza piccola e più crescono i costituenti. Ma avendo messo in relazione la piccolezza di un oggetto con il numero di forze, se io dico, se io vado a distanza piccole aumenta il numero di oggetti, questo vuol dire che andando a distanze piccole aumenta il numero di forze possibili perché io ho un oggetto solo, lo guardo a distanze piccole, diventano due, tre, cento, diecimila oggetti sui quali se vado a distanze piccole posso vedere ancora più forze e quindi insomma sono in una situazione un po' imbarazzante in cui si direbbe, questa era la difficoltà da cui sono partito, che insomma più io vado a distanze corte più vedo cose e quindi questo è il problema, nulla è fondamentale. Allora questo problema è stato brillantemente risolto da un grande fisico del Novecento che si chiamava Ken Wilson che ha prodotto una teoria che va sotto il nome di rinormalizzazione ma non è particolarmente importante il nome, quello che è importante è che questa teoria permette appunto di capire come mettere in relazione quello che succede a una certa distanza con quello che succede se io vado a guardare dentro sempre a distanze sempre più corte, un po' come la storia di quella signora che era andata a una conferenza di un fisico che parlava dell'universo e disse no io non credo a nulla di quello che lei dice, io so benissimo che la terra sta sulle spalle di un elefante, anche il fisico le disse ah la terra sta sulle spalle di un elefante e l'elefante dove sta? E la signora disse ma l'elefante lo sanno tutti, sta sulle spalle di una tartaruga e allora il fisico le disse la tartaruga è sulle spalle di chi sta? E la signora lo guardò con aria serassica e disse ah guardi non si preoccupi ci sono tartarughe che continuano a esserci fino in fondo, quindi l'idea è che ecco Wilson ci ha dato un modo di dire che in un certo senso la signora aveva ragione, cioè se noi guardiamo a distanze più corte è vero che aumenta il numero di costituenti però appunto ci sono delle tartarughe sempre più piccole che noi riusciamo a calcolare in base a quelle più grandi eccetto che questo succede se e solo se ci sono delle forze che dipendono dalla scala, quindi non appena c'è una forza che dipende dalla scala, non appena esiste una forza che dipende dalla scala succede questa cosa qua, andando a distanze più corte, ci sono più particelle, ci sono più tartarughe, ci sono più forze e c'è un regresso infinito di forze che aumenta andando a distanze sempre più corte. Ebbene noi i fisici del novecento e attuali hanno fatto un'ipotesi che è fatto sotto il nome di un principio di rinormalizzabilità che è la seguente, le forze dipendenti dalla scala sono vietate, non possono esistere. Allora questa per il momento non è un fatto sperimentale, è più un'ipotesi teorica, è una specie di pregiudizio filosofico. Qual è la ragione per fare questa ipotesi? Beh è quella che i filosofi medievali chiamavano il rasoio di Ockham, un filosofo del tredicesimo secolo, cioè che se è possibile spiegarle cose in modo più semplice è meglio. Un altro filosofo medievale, più o meno contemporaneo, dice gli enti non vanno moltiplicati, pluralitas non è ponendo a fine necessitate, non vanno moltiplicati gli enti senza necessità. Allora l'ipotesi di rinormalizzabilità è un po' questa, cioè è di dire forze che dipendono dalla scala come le forze che dipendono dalla velocità non possono esistere, non possono esistere, sono proprio vietate, perché se esistessero allora vorrebbe dire che nascerebbe questa immagine delle tartarughe, cioè le forze che vediamo sarebbero dovute ad altre forze più numerose a distanze più corte, che sono a loro volta dovute ad altre forze, e il numero di forze cresce sempre man mano che aumentiamo la risoluzione, che andiamo a distanze più piccole. L'unica via di salvezza è supporre che queste forze dipendenti dalla scala non esistono. Se le forze dipendenti dalla scala non esistono, allora invece le forze che sono indipendenti dalla scala, quelle sono stabili, sono uguali, con qualunque risoluzione guardi, io aumento la risoluzione e le forze sono sempre quelle. Allora, per esempio, la radioattività, quella scoperta da Madame Curie di cui ieri ricorreva il 150esimo anniversario della nascita, è un fenomeno fisico che è stato spiegato per la prima volta da Enrico Fermi nel 1934. Enrico Fermi ha fatto una teoria della radioattività che funziona benissimo, funziona tuttora molto bene, descrive quello che succede. Ha un piccolo difetto che è descritta da una forza che la cui intensità è data da una costante, che si chiama costante di Fermi, molto piccola, infatti questa forza viene chiamata forza debole perché la costante è molto piccola, è molto piccola in unità di che cosa? In metri, è piccola in metri, cioè è una forza che dipende dalla distanza, quindi è una forza che è piccola su oggetti grandi metri, su oggetti sufficientemente piccoli diventa forte, è una forza che dipende dalla scala, l'unità che misura questa forza è metri, non è un numero, non vale 23, vale 10 alla meno 18 metri al quadrato. Quindi, pregiudizio, ipotesi di normalizzabilità, la teoria di Fermi non può essere giusta, è vietata, è una teoria che non può essere giusta. Che vuol dire che non può essere giusta? Vuol dire che se io vedo la teoria di Fermi deve essere un'approssimazione, deve esserci sotto qualche cos'altro, deve esserci sotto una forza indipendente dalla scala e il modo di riprodurre la teoria di Fermi a partire da una forza indipendente dalla scala è stato trovato da Steven Weinberg nella metà del secolo scorso ed è stato famosamente verificato in un esperimento da Carlo Rubbia nella seconda metà del secolo scorso che ha scoperto una particella nuova che all'epoca non era stata vista ma che era stata predetta perché introducendo questa particella nuova si riesce a spiegare la radioattività con una forza che non dipende dalla scala. Quindi vedete, in questo caso non c'era nessuna ragione per buttare via la teoria di Fermi, funzionava benissimo, sperimentalmente non c'erano problemi, però c'era questo pregiudizio filosofico che se la teoria di Fermi fosse giusta andando a distanze sufficientemente piccole dovrebbe produrre le tartarughe, andando a distanze ancora più piccole e ancora più piccole. Questo non può essere vero, deve esserci qualche cosa sotto e questo pregiudizio ha funzionato, ci ha fatto vedere che effettivamente questa ipotesi che era giustificata in fondo soltanto da criteri di semplicità, da criteri filosofici, ci ha davvero portato a formulare una teoria che è stata sperimentalmente verificata. Ecco, quindi a questo punto posso rispondere alla domanda che ho posto all'inizio dell'incontro di stasera. Che cos'è una teoria di interazioni fondamentali? Una teoria di interazioni fondamentali è la lista di tutte le particelle viste, una lista di divieti, cioè la lista delle simmetrie, e poi tutte le forze che non dipendono dalla scala compatibili con queste particelle e con queste simmetrie. Le forze che non dipendono dalla scala compatibili con un insieme di particelle e un insieme di simmetria sono il numero finito e quindi se io vi dico, guardate, queste sono le particelle, questa tabella qui, e queste sono le simmetrie, matematicamente le simmetrie note si scrivono in questo modo, è una formula che non vi posso spiegare, ma insomma che dice come sono fatte queste simmetrie, uno può dire, ah beh, allora tutte le forze possibili sono, tutte le interazioni possibili sono queste, cioè l'elenco delle particelle e delle simmetrie, cioè dei divieti, una volta che dico solo le forze indipendenti dalla scala sono permesse, tutte le altre sono vietate, passa, definisce che cos'è la mia teoria fondamentale. E quello che noi sappiamo adesso è che ci sono tre gruppi di simmetrie separati e questa è la ragione per cui diciamo che ci sono tre interazioni fondamentali e quello che è rappresentato qui da questi tre simboli che danno più o meno queste tre diverse simmetrie, queste tre diverse liste di divieti che sono concatenati fra di loro e che producono tre interazioni fondamentali. Allora questo è quello che sappiamo attualmente, va sotto il nome di modello standard, in realtà è la teoria standard, però quando è stato proposto molti anni fa appunto da Weinberg nel 1960 e qualcosa, non era ancora una teoria, era un modellino e quindi l'ha chiamato un modello, poi piano piano è diventato il modello in cui tutti credevano e quindi è diventato il modello standard e alla fine il nome modello standard è rimasto, ma il nome giusto sarebbe, è la teoria attuale delle interazioni fondamentali, lista di particelle questa qua, lista di simmetrie e ipotesi che solo le forze invarianti di scala sono permette. Allora è chiaro che questo di nuovo comporta tutta una serie di domande, perché ci sono queste particelle? Beh questo l'ho già chiesto prima, perché queste simmetrie qui e non altre? Non lo sappiamo, tra l'altro oltre a queste simmetrie ce ne sono delle altre che vanno sotto il nome di accidentali, che vuol dire accidentali? Beh per esempio se uno va a vedere le masse delle particelle in questa lista ci sono alcune masse che sono circa uguali o altre che sono in relazioni che sembrano circa giuste, non so, una è il triplo dell'altra e anche tutte le altre, allora uno dice ma sembra che ci siano, insomma c'è una struttura, non la conosciamo, c'è anche un problema grosso come una casa, nella voce di Wikipedia che vi ho mostrato all'inizio c'era scritto le forze fondamentali sono quattro e invece qui ce ne sono solo tre di liste di divieti, ne manca una, manca la gravità, la gravità non la sappiamo attualmente mettere in questo quadro, non sappiamo bene formulare la gravità in modo consistente assieme a tutto il resto, quindi insomma questa teoria standard è una teoria molto bella però chiaramente è una teoria che ha tutta una serie di misteri e in particolare non può essere la teoria completa perché manca una delle forze fondamentali, manca la gravità che non si sa mettere assieme al resto. Allora a questo punto vi sto avviando alla fase finale della mia discussione di questa sera e forse vi starete chiedendo perché io vi stia raccontando queste cose proprio adesso, proprio oggi, proprio questa sera. Una ragione c'è e cioè avrete notato per esempio, non so, vi ho fatto vedere Weinberg che ha supposto questa teoria nel 1967, Wilson che ha capito il gruppo di rinormalizzazione ed è morto ormai parecchi anni fa, insomma voi direte ma insomma sono tutte cose che si sanno da 20 o 30 anni perché ci racconta adesso queste vecchie cose. Allora la ragione per cui vi racconto adesso queste cose c'è ed è che in questo momento stiamo nel mezzo di una specie di crisi concettuale, la crisi concettuale è che i pregiudizi filosofici, diciamo i fatti sperimentali sono fatti sperimentali, ma i pregiudizi filosofici che abbiamo usato per costruire la teoria o che hanno usato i padri fondatori della teoria, iniziano un po' a scricchiolare, iniziano a scricchiolare perché stanno succedendo delle cose strane, quindi vorrei dedicare gli ultimi 10 o 15 minuti a spiegarvi che cosa sta succedendo e perché ora c'è un problema. Allora il problema è il seguente, il problema è che oltre al principio di rinormalizzabilità, quello che vi ho detto, che ha funzionato in modo spettacolare, la teoria di Fermi non può essere giusta perché c'è una costante che dipende dalla scala, deve esserci un'altra teoria, sotto e si trova che quell'altra teoria è proprio vera, si trova la particella che predice. Ecco, oltre a questo però c'è anche un'altra idea che è sempre stata più o meno nella testa di tutti coloro che hanno formulato questa teoria, che si chiama principio di naturalezza. Allora questa idea è grossomodo l'idea seguente, che scale diverse sono ben separate, se io voglio progettare un ponte o un'automobile non ho bisogno di conoscere la fisica delle particelle, perché normalmente io mi aspetto che la fisica a una scala non influenzi la fisica a scale molto diversa, se io voglio le proprietà degli oggetti meccanici, le proprietà degli oggetti microscopici sono poco importanti, se io voglio fare la biologia, le proprietà delle molecole le posso studiare senza conoscere la struttura del protone, se voglio fare invece la fisica nucleare eccetera. Quindi in ogni tipo di fisica mi importa sapere cosa succede in quella regione lì, ma non in regioni molto diverse, non c'è un burattinaio che vive a distanze molto grandi o molto piccole che mi controlla, ciascuno di noi fa le sue cose alla sua scala indipendentemente. Ecco, questo in fondo è un po' la stessa idea della rinormalizzabilità, insomma le tartarughe microscopiche non ci piacciono, noi vogliamo che ogni scala viva per conto proprio, però questa è una cosa che funziona solo se non ci sono delle cose innaturali, che vuol dire che ci sono delle cose innaturali? Beh, per esempio vuol dire che alcune delle intensità delle forze, abbiamo detto che le forze non dipendono dalla scala, quindi per esempio la forza elettromagnetica è caratterizzata da una costante, un numerino che ci dice quanto è forte la forza elettromagnetica, si chiama costante di struttura fine. Allora è un numero puro, non ha le dimensioni, non si misura in metri, è un numero, vale 23, vale 1 diviso 137, qualche cosa, ok? Allora, questi numeri che caratterizzano l'intensità delle forze, ci aspettiamo che siano di ordine 1, che vuol dire di ordine 1? Beh, 1 diviso 100 va bene, anche 10 o 100 andrebbe bene, però 10 miliardi di miliardi di miliardi non va bene, sembra innaturale, 0,9701 è innaturale, in questo senso è innaturale, e perché è innaturale? Perché se ci fossero dei numeri così mostruosamente strani, grandi, beh a quel punto sì che succede che potrebbe essere necessario conoscere la struttura del protone per progettare un'automobile, perché avrei dei numeri che sballano la scala caratteristica dei fenomeni fisici, naturalmente fanno diventare una cosa mostruosamente più importante o meno importante di quanto mi aspetterei guardando semplicemente le caratteristiche fisiche del problema, di solito nei problemi fisici uno stima più o meno quanto sono grandi gli oggetti e riesce a trovare una buona stima di quel che succede e questo è perché appunto le costanti in natura in genere magari valgono 1, 2, 10, 20, ma non un miliardo di miliardo di miliardi e in particolare io mi aspetto che non ci siano miracoli, non ci sono due parametri grandissimi che però guarda caso si cancellano con un segno meno per cui ho un parametro che vale 1 miliardo di miliardi di miliardi e un altro che vale 1 miliardo di miliardi di miliardi più 1 e la differenza tra i due è l'unica differenza che compare, questa di nuovo è una cosa molto innaturale, naturalmente questa naturalezza è una cosa molto filosofica, logicamente nulla impedisce di avere un numero che vale 10 miliardi di miliardi, logicamente nulla impedisce di avere due numeri giganteschi che si cancellano e danno un numero normale, non è un'esigenza logica la naturalezza, è più un'esigenza estetica, è come dire il mondo è fatto come un quadro di Mondrian appunto in cui ci sono dei pezzi più grandi, dei pezzi più piccoli, però l'insieme è fatto di pezzetti armoniosi tutti più o meno delle stesse dimensioni, qualcuno è parecchio più piccolino di un altro, però bene o male si incastrano senza che ce ne sia uno gigantesco che schiaccia tutto il resto, uno piccolissimo. Allora questo è il principio di naturalezza. Ecco, fino a pochi anni fa, fino a 5 anni fa diciamo, il principio di naturalezza era perfettamente soddisfatto dalla teoria standard. 5 anni fa è stato scoperto il bosone di Higgs, allora il bosone di Higgs ha un piccolo problema. Allora se voi tornaste indietro nella tabella che vi ho fatto vedere prima con la lista di particelle elementari, vi ricordate c'era quella cosa che ho definito all'inizio lo spin, dicevo le particelle elementari si caratterizzano per massa e spin. Ecco, scoprirete che in quella tabella, se la guardate per bene, tutte le particelle hanno spin maggiore di zero, che vuol dire che hanno più di un grado di libertà, quindi tipicamente ne hanno due o tre, quindi possono vivere in due o tre stati, non ce n'è mai una che ha un grado di libertà solo. Ecco, il bosone di Higgs no, il bosone di Higgs ha un grado di libertà solo, tecnicamente si dice che ha spin zero. Allora, il fatto che non ci fossero particelle elementari note di spin zero era un fatto che riempiva tutti di gioia perché era perfettamente compatibile con questo principio di naturalezza. Perché? Beh, questa è una cosa che sarebbe un po' difficile da spiegare, però intuitivamente la potete capire così. Un oggetto che ha più di uno stato, quindi come un oggetto appunto di spin maggiore di zero, che ha più di uno stato, è un po' come un pallone da rugby, è un oggetto che ha una forma. Questa forma fa sì che questo oggetto sia stabilizzato rispetto a deformazioni, invece un oggetto di spin zero è come un palloncino sferico, un palloncino sferico io lo posso gonfiare e resta palloncino. Quindi un oggetto di spin maggiore di zero è come un pallone da rugby che non lo posso gonfiare perché se lo gonfio smette di essere a forma di pallone da rugby. E non appena io ho dei gradi di libertà interni succede questo fatto. Però quando ho un oggetto di spin zero non è così. Un oggetto di spin zero si gonfia, si può gonfiare senza che succeda nulla e quello che succede quindi è che uno si aspetta, siccome tutto quello che non è vietato accade e non è vietato che l'oggetto si gonfi. E siccome noi sappiamo che in natura ci devono essere delle cose che succedono con scale molto grandi, per esempio la gravità, ecco noi ci aspettiamo che un oggetto di spin zero si gonfi, si gonfia di smisura e abbia una massa infinita. Ecco il bosone di X è stato visto, è un oggetto di spin zero, non ha una massa infinita e quindi non si capisce. È molto innaturale. L'unico modo di fare sì che il bosone di X stia lì senza gonfiarsi con un palloncino è proprio di inventarsi dei meccanismi in cui uno ha dei numerini che si cancellano miracolosamente e lo tengono lì seduto senza che si gonfi. E quindi questo è il problema. Il problema è quindi che aver scoperto un bosone di X e non aver scoperto nient'altro è innaturale. Naturalmente quello che noi avremmo potuto scoprire è il bosone di X e delle altre cose che messe assieme ci si incastrano attorno e lo stabilizzano. Avremmo potuto scoprire che il bosone di X non è veramente una particella elementare, è affatto di altre particelle. Non è così. Allora naturalmente noi stiamo facendo esperimenti e la speranza è l'ultima a morire. Può darsi che si scoprano altre cose, può darsi che si scopra appunto che il bosone di X non è elementare, ma per quello che ne sappiamo, e più passano i giorni, più si accumulano dati e più sembra che sia così, il bosone di X è innaturale. E quindi il principio di naturalezza è andato a farsi benedire. Questo è una crisi, no? Perché vuol dire che queste idee sulle quali abbiamo costruito l'attuale teoria, che sono in parte pregiudizi filosofici, smettono di funzionare. Allora i dati, vabbè, non i pregiudizi filosofici, però ci sono serviti a costruire la teoria. Un paio di settimane fa è uscito un lavoro molto bello scritto da Gianfrancesco Giudice, che si chiama L'alba dell'era della post naturalezza. Questo lavoro è scritto sotto forma di dialogo immaginario tra Gianfrancesco Giudice, che è il direttore della divisione teorica del CERN, e Guido Altarelli, che è stato a lungo professore in questa università e che è stato predecessore di Giudice come direttore della divisione teorica del CERN, è prematuramente scomparso un paio di anni fa. E appunto Gian fa finta di parlare con Guido se fosse ancora vivo e di cercare di capire insomma com'è questa situazione, che facciamo adesso che non c'è più la naturalezza, che ci inventiamo e fa tutta una serie di ipotesi di cui scrivo i nomi, non provo neppure a spiegarvi che cosa sono, alcune sono ipotesi teoriche, altre sono idee di possibili dati sperimentali, il multiverso, la palude, la selezione dinamica, la selezione statistica, la censura, il problema della costante cosmologica, la complessità emergente, l'invarianza emergente, il problema della materia oscura, insomma tutta una serie di cose dove forse si potrà trovare qualcosa che sostituisca il principio di naturalezza che abbiamo usato finora. Queste sono tutte idee molto speculative e quindi non ve ne parlo perché per oggi vorrei attenermi a quello che sappiamo. Queste sono cose che non sappiamo, ma il punto fondamentale appunto è che in questo momento siamo in un certo senso nella prima grande crisi della fisica delle interazioni fondamentali da 40 o 50 anni a questa parte perché tutti i pregiudizi su cui abbiamo costruito la teoria non stanno più funzionando. Allora naturalmente questo pone una domanda molto difficile perché per fare progresso scientifico è necessario capire quali sono le domande giuste, cioè che cos'è davvero una cosa da capire, che cos'è un caso, un accidente. Per esempio Keplero nel 500, alla fine del 500, cercò di spiegare i raggi delle orbite dei pianeti, cioè perché l'orbita di Giove, Mercurio, Venere, eccetera, sono in certe proporzioni e cercava di spiegarlo dicendo ma insomma che c'è il Sole in mezzo, attorno al Sole ci sono i solidi platonici che sono dei solidi regolari e questi sono iscritti l'uno dentro l'altro nel modo minimale e questo determina i raggi delle orbite dei pianeti e quindi ha proposto in questa sua opera Misterium Cosmographic con questa ipotesi che i raggi delle orbite dei pianeti siano determinati dal modo in cui si possono iscrivere dei solidi platonici uno dentro l'altro. Allora noi oggi sappiamo che questo è un'idea sbagliata, cioè quello che è sbagliato era la domanda che lui sponeva, la domanda era perché i raggi delle orbite dei pianeti sono quelli che sono, a parte che non sono circolari quindi non sono proprio raggi, ma insomma comunque perché sono così, beh noi oggi diremmo insomma il sistema solare è uno di tanti sistemi solari, nell'universo ne sono scoperti tanti di sistemi planetari negli ultimi 10 o 20 anni ne hanno scoperto una miriade e il nostro è uno fra tanti che si dà il caso che abbia delle orbite fatte così, ma insomma non c'è nessuna particolare ragione, è come chiedersi perché un sasso ha una certa forma, boh, così è un caso, no? Quindi questo fa capire bene come possa essere molto difficile, no? Perché Plero probabilmente, perché Plero il cui universo era il sistema solare, era molto difficile accettare, sarebbe sicuramente stato molto difficile accettare che questo non fosse un problema. Allora come ne usciamo? Beh, l'unico modo che abbiamo di uscirne è di usare un altro pregiudizio filosofico, questo pregiudizio filosofico si chiama metodo sperimentale, naturalmente che facendo esperimenti si scopra la natura ultima della natura è appunto un pregiudizio, come alcuni filosofi hanno voluto fare notare, allora che questo pregiudizio, diciamo che questa sia una buona o una cattiva cosa non lo so, di sicuro quello che possiamo dire è che finora questo pregiudizio ha funzionato molto bene, quindi il pregiudizio che facendo esperimenti riusciamo davvero a capire le leggi della natura anziché avere semplicemente una collezione di idee a caso è una cosa che per ora funziona molto bene, attualmente ci sono vari tipi di modi di capire che cosa sta succedendo, appunto uno è il grande acceleratore dell'HC al CERN in cui stiamo continuando a cercare di scoprire forse che ci sia qualche granello di sabbia che ci dice che la teoria attuale non funziona, un altro è il rivelatore di onde gravitazionali di cui avete sentito parlare di recente, le onde gravitazionali sono state viste per la prima volta un anno fa, dopo molti anni, ci diranno probabilmente qualcosa su come è fatto l'universo, magari ci possono dare qualche inizio, anche gli osservatori astrofisici su satellite come la Planck ci hanno dato informazioni, per esempio la mappa dell'universo che vi mostravo prima è stata fatta col satellite Planck, ecco non ci resta che sperare di poter continuare a fare esperimenti, e che questi esperimenti ci permettano di capire con che idea nuova possiamo sostituire le idee che ci hanno portati fino al punto in cui siamo adesso. Grazie. Grazie Stefano per questo interessante seminario, ci sono domande? quadro, la supersimmetria a che punto sta? Beh, allora, naturalmente questa è una domanda fatta da un fisico, quindi devo una spiegazione al pubblico. Allora, la supersimmetria era il meccanismo che a dieci anni fa, fatemi tornare a questa slide, se ci riesco, se non ci riesco, dunque, no, ok, ecco, allora la supersimmetria era l'idea che si pensava prima della scoperta del bosone di Higgs avrebbe potuto curare il problema della naturalezza, no? Io prima dicevo il bosone di Higgs è innaturale, allora il bosone di Higgs da solo è innaturale, però potrebbero esserci scenari in cui appunto non c'è il bosone di Higgs da solo, uno scenario era quello della supersimmetria, la supersimmetria era proprio motivata dall'ipotesi di naturalenza e l'idea della supersimmetria è che, lo dico per quelli che non lo sanno, l'idea della supersimmetria è che oltre alle particelle elementari che ho elencato, ci sia tutto un altro numero di particelle che non sono ancora state scoperte, le quali però hanno delle interazioni, quindi delle costanti, adimensionali, eccetera, eccetera, che sono fissate non per un caso, non perché c'è una cancellazione miracolosa, ma perché c'è una simmetria appunto, che si chiama supersimmetria, che le mette in relazione e a questo punto con queste particelle in più e grazie a questa simmetria extra c'è una serie di cancellazioni che fanno sì che il bosone di Higgs non si gonfi come un palloncino, quindi molti avrebbero scommesso, molti miei, i nostri colleghi avrebbero scommesso 4-5 anni fa che o il bosone di Higgs non si scopriva, o si sarebbe scoperto che non è una particella elementare, o si sarebbero scoperte molte altre particelle oltre al bosone di Higgs. Questo non è successo, quindi quello che è successo è che si è scoperto il bosone di Higgs, per quanto ne possiamo sapere, elementare e non ci sono queste altre particelle in più. Allora uno potrebbe dire, ah ma magari queste altre particelle in più le scopriremo in futuro, sì però se le scoprissimo in futuro vorrebbe dire che sono molto più pesanti, hanno una massa molto più grande e allora questo rovina di nuovo la naturalezza, perché a quel punto dobbiamo spiegare perché queste particelle in più sono così più pesanti, quindi a quel punto scambiamo un problema con un altro. Naturalmente come dicevo prima quando parlavo di naturalezza, quando noi diciamo non ci possono essere cancellazioni, cum grano salis o non ci possono essere parametri naturali, allora che cosa è innaturale? Ma 100 è innaturale, 1000 è innaturale, ma non lo so, di sicuro un miliardo di miliardi di miliardi è innaturale. Allora quello che sta succedendo adesso è che queste ipotetiche particelle supersimmetriche stanno diventando sempre più massive, sempre più massima, sempre più massima, a un certo punto uno diceva vabbè, insomma, fino a un certo punto uno poteva dire beh magari sono un po' meno naturali di quanto avessi pensato, ora iniziamo a non crederci. Allora in questo lavoro molto bello che vi dicevo, Gian giudice esordisce dicendo però che lui ebbe una conversazione con Guido Altarelli una quindicina di anni fa in cui Guido con il suo caratteristico scetticismo gli disse ma insomma che lui a queste cose la naturalezza non ci credeva e che quindi lui non si sarebbe stupito affatto del fatto che si scoprisse, anzi disse guarda io ti dico, ascolta a me, secondo me si scoprirà soltanto il bosone di Higgs, niente supersimetria e nient'altro e quindi questa è la natura dei pregiudizi filosofici, quindi allo stato attuale delle cose questo è un problema e il miglior modo che abbiamo di descrivere la situazione attuale appunto è quella di una crisi che ci costringe a buttare via la naturalezza e a sostituirla con qualcos'altro, che cosa non lo so e non lo sa nessuno. C'è un'altra domanda qua. Grazie, innanzitutto premetto che sono uno studente di quinto quindi magari sto dicendo una gastroneria ma la curiosità... Uno studente di? Quinto scientifico. Di quinto scientifico. Quindi magari la domanda potrebbe sembrare una gastroneria però la curiosità era troppo forte. Come noto ci sono solo risposte stupide, non delle stupide. In una slide ho letto che veniva affermato che non esisteva azione a distanza, però ultimamente ho letto un articolo riguardo a un fenomeno che si chiama entanglement e mi stavo chiedendo come questo si potesse relazionare o se magari avesse anche senso come dubbio. Allora, questa in realtà è una domanda alla quale è molto difficile rispondere. Allora, l'entanglement, per chi non lo sapesse, l'entanglement è una proprietà della fisica quantistica che dipende dal fatto che nella fisica quantistica ci sono alcune cose che sono non locali. Dire che alcune cose sono non locali vuol dire che ci possono essere dei fenomeni fisici che collegano degli eventi che si trovano in punti diversi dello spazio. Quindi in questo senso ricorda un po' l'azione a distanza. Il punto fondamentale però è che quello che è locale è tutto ciò che trasferisce diciamo informazione. Quindi per esempio noi sappiamo che vale la teoria della relatività che dice che l'informazione si trasmette a qualunque cosa, quindi in particolare l'informazione si trasmette al massimo alla velocità della luce. L'entanglement avviene anche tra fenomeni che sono separati così poco che non potrebbero comunicare alla velocità della luce e la ragione per cui questo è possibile, quindi non contraddice la teoria della relatività, è che però le correlazioni dovute all'entanglement sono non locali ma non trasferiscono informazione. Quindi non c'è azione a distanza nel senso che un oggetto non può avere effetti causali su un altro oggetto che è causalmente disconnesso, col quale non può comunicare. Però sì possono esistere dei risultati di esperimenti in cui i risultati di esperimenti si influenzano ma non perché ci sia una relazione causale, semplicemente perché la meccanica quantistica ci dice che l'informazione contenuta in un sistema fisico è meno di quanto uno si sarebbe aspettato ingenuamente sulla base di quello che sappiamo dalla vita di tutti i giorni e quindi siccome l'informazione è di meno, questa minore quantità di informazione fa sì che nel momento in cui io determino l'esito di qualche cosa da qualche parte, questo inevitabilmente cambia l'esito di qualche cos'altro da un'altra parte. Senza però che ci sia stata causa e quindi senza che ci sia stata interazione e quindi senza che ci sia stato trasferimento di informazione. Anzi alcuni dei test più raffinati della meccanica quantistica che vengono fatti adesso consistono proprio nel verificare l'entanglement, cioè queste relazioni, per esempio su satelliti dove la distanza dei satelliti artificiali, voglio dire, come quelli delle telecomunicazioni, dove la distanza dei satelliti è tale che io sono sicuro che questi effetti quantistici di correlazione non determinano un rapporto causale perché non può essere passata informazione dall'uno all'altro. Ci sono altre domande? Sì. Ma quando la chimica ha scoperto gli elementi fondamentali, oltre l'uranio ci sono gli attini, sono altri magari non presenti in natura che magari si possono produrre per reazioni. Allora perché invece il bosone ha causato questo problema di non naturalezza? Non potrebbero esserci delle particelle oltre quelle naturali che però non cambiano la validità della teoria? Allora sì, allora dunque appunto lei ha citato gli elementi chimici, appunto naturalmente gli elementi chimici o la chimica è caratterizzata dal fatto di avere dei nuclei atomici che hanno, quindi la chimica è caratterizzata dal fatto che ci sono degli atomi il cui nucleo ha una certa carica elettrica. Questo naturalmente Mendeleev non lo sapeva, ma noi ora lo sappiamo, cioè sappiamo che le proprietà chimiche sono qualche cosa che deriva, diciamo che si può calcolare sulla base delle proprietà atomiche. A loro volta sappiamo che le proprietà atomiche si calcolano in base alle proprietà del protone, ora in teoria le proprietà del protone si calcolano a partire da proprietà di quark e quindi lei giustamente può dire, ma è chi ci dice che il bosone di X non sia affatto di altri oggetti? Beh, infatti, quindi se il bosone di X non fosse elementare ma fosse fatto di costituenti questo evaderebbe il problema della naturalezza. Noi possiamo pensare che il bosone di X sembra un oggetto di spin zero, ma in realtà non c'è un oggetto elementare di spin zero. Il bosone di X è un oggetto composito, anzi si chiama proprio X composito, c'è tutta una grande letteratura in materia, diciamo che il problema è che purtroppo i dati sperimentali man mano che si accumulano non incoraggiano questi, perché per esempio se il bosone di X fosse composito non solo vedremmo i costituenti ma vedremmo delle manifestazioni un po' più macroscopiche, così come appunto magari le proprietà chimiche non dipendono dalle proprietà atomiche, però insomma a un certo punto se uno studia con sufficientemente dettaglio inizi a vedere degli effetti atomici o almeno molecolari. Ecco, gli effetti che uno si aspetterebbe se il bosone di X fosse composito non si vedono, allora certo uno potrebbe dire beh, ma allora è fatto di costituenti pesantissimi che miracolosamente, ma allora li siamo di nuovo da capo, dobbiamo immaginarci un miracoloso meccanismo che fa sì che ci siano questi costituenti pesantissimi del bosone di X che miracolosamente si legano assieme a fare un oggetto che non è così pesante e quindi il problema della naturalezza rientra dalla finestra. Poi ci sono molte idee per cercare di evadere una simmetria extra, chi lo sa, insomma a quel punto rientriamo. Quindi sì, è chiaro che appunto forse c'è qualcosa che non capiamo, però più passa, è un po' come la domanda di prima della supersimetria, no? Più passa il tempo e più queste ipotesi non si vedono e quindi uno può dire beh, sì, forse la scopriremo domani, sì, forse, però più passa il tempo, più si accumulano i dati e più diventa strana la situazione. C'è una domanda qui. Buonasera. Fino a qualche tempo fa ho sentito dire che il problema della materia oscura poteva essere risolto appunto con le particelle supersimetriche. Ora se questa ipotesi, come le dice, cade, il problema della materia oscura si infittisce e quindi la ricerca poi della naturalezza che prevede anche questo tipo di ipotesi, come si pone? Sì, allora infatti come vede nella lista delle cose, degli indizi sperimentali che ci potrebbero portare a di là della naturalezza, ho proprio messo la materia oscura in questo lavoro che è un lavoro che è accessibile forse anche, sicuramente bisogna essere delle persone che lavorano in campo scientifico, però è accessibile direi anche ai non fisici, un matematico, un biologo può leggerlo, quindi non so qual è il suo background, ma insomma magari può anche leggerlo questo lavoro. Giudice dice che c'è il miracolo della materia oscura. Il miracolo della materia oscura che cos'è? È il fatto che ci sono due problemi diversi, cioè quello della naturalezza e quello della materia oscura, che in certi scenari ben determinati si risolverebbero entrambi e quindi naturalmente il fatto che ci siano scenari ben determinati con i quali entrambi i problemi si risolvono in un corpo sono naturalmente un po' fa riflettere perché uno dice, ma insomma guarda che curiosa coincidenza che se io mettessi le particelle giuste, il problema è che il più semplice di questi scenari, cioè la supersimetria, disgraziatamente ormai sperimentalmente non si è visto. Ne resta uno che è quello dell'azione o del rilazione che è uno scenario un po' così, in cui bisogna inventare un tipo di particella che risolve il problema della materia oscura e inoltre attraverso un meccanismo un po' come quello di cui accennavo nella risposta alla domanda precedente stabilizza il bosone di Higgs, quindi certo, è chiaro che questo, diciamo io prima ho detto noi sappiamo che il modello standard, la teoria standard non può essere completa perché manca la gravità, questo è plateale, ma anche perché non spiega la materia oscura, la materia oscura deve essere fatta di particelle che non stanno nella tabella famosa che vi ho fatto vedere prima e quindi una volta che quella tabella salta, goodness only knows, insomma chissà cosa andiamo a scoprire ed è sicuramente suggestivo che quella possa essere la soluzione, purtroppo da un punto di vista concettuale non c'è un candidato ovvio di teoria, eccetto forse questo rilassione che però è una cosa un po' recente così, che spieghi simultaneamente la materia oscura e la naturalezza. Ci sono altre domande? Sì. Buonasera professore, mi perdoni ma sono solo un'appassionata, non una tecnica. A proposito del modello standard, io volevo sapere che cosa si intende per teoria di gauge non abbelliana e poi che cosa vuol dire libertà asintotica in fisica? Allora queste sono domande alle quali, per rispondere alle quali ci vorrebbero altrettanti conferenze di un'ora, comunque cerco di rispondere, quindi sono due domande, allora cerco di rispondere rapidamente a entrambe, allora che cosa si intende per, diciamo, la parola inglese che si pronuncia gauge vuol dire calibro, sarebbe teoria di calibro non abbelliana. Allora, quando io prima dicevo il modello standard è completamente caratterizzato dalla lista di particelle e dalla lista, ecco, chissà se riesco a tirarlo fuori, il modello standard è completamente caratterizzato dalla lista di particelle e, chiedo scusa, non riesco a fare due cose simultaneamente, vabbè, non importa, possiamo guardare la slide in questa versione qua, è caratterizzato dalla lista di particelle e da questa lista di simmetrie che avevo scritto qui. Allora, la lista di simmetrie, come dicevo, è una lista di divieti, allora, quando uno mette, io dicevo, vabbè, quindi ci sono i divieti e poi c'è il fatto, la richiesta che tutte le forze possibili siano quelle invarianti di scala. Allora, si dà il caso che se uno impone simultaneamente tutti questi vincoli, cioè che le particelle siano quelle che sono, ci sono i divieti che ci sono, impone invarianti di scala, scopre che il tipo di interazione possibile appartiene a una classe molto particolare, che è questa che si chiama teorie di Gage. Le teorie di Gage sono le teorie che compaiono tutte le volte che ci sono oggetti che hanno spin 1, cioè tre gradi di libertà, e però massa zero. Per esempio il fotone, la luce, è un oggetto così, è un oggetto che ha spin 1 e massa zero. Un oggetto di spin 1 e massa zero, un oggetto di spin 1 dovrebbe avere tre stati possibili, però se ha massa zero ne ha solo due, di nuovo una cosa che si dimostra matematicamente, e la ragione per cui ne ha solo due è che ce n'è uno che in realtà sparisce perché c'è una particolare invarianza, che si chiama invarianza di Gage. Quindi nel momento in cui io dico, guarda, ci sono delle particelle di spin 1 e massa zero con accoppiamenti, la teoria deve essere fatta come una teoria di Gage. Le teorie di Gage però, oltre ad avere questa caratteristica, che quindi sono obbligatorie se io ho degli oggetti di spin 1 e massa zero, hanno anche un'interpretazione geometrica molto suggestiva. Per esempio la gravità, la relatività generale, la gravità di Einstein, è anch'essa una teoria di Gage e quindi uno può pensare ma non è che quello che abbiamo scoperto è che ci sono delle particelle a spin 1 e massa zero, quello che veramente è fondamentale è questa geometria che caratterizza la teoria di Gage. Questa è una delle cose di cui parla Giudice nell'articolo in questione e nella lista di cose strampalate che mettevo c'era la simmetria emergente, ci sono idee che quindi queste invarianze particolari di Gage emergono tutte le volte che uno ha dei fenomeni complessi soggiacenti, è una cosa che succede nella fisica della materia. Quindi diciamo che per troncare la teoria di Gage è la teoria che descrive, per esempio l'elettromagnetismo di Maxwell è una teoria di Gage ed è la teoria che descrive la fisica di oggetti che hanno spin 1 e massa zero. Libertà sintotica vuol dire che è un po' collegato a questo discorso che facevo, quello delle tartarughe infinite. Allora, alle tartarughe infinite ci sono tutte le volte che abbiamo accoppiamenti che dipendono dalla scala. Quando abbiamo accoppiamenti che non dipendono dalla scala non ci sono le tartarughe infinite, quindi non aumenta il numero di forze, la forza rimane lo stesso, però succede lo stesso questa cosa della meccanica quantistica che dicevo per cui andando a distanze più corte aumenta il numero di costituenti, però siccome le forze sono invarianti dalla scala aumenta il numero di costituenti ma non aumenta il numero di forze, la forza rimane quella che è. Ma quello che succede è che siccome aumenta il numero di costituenti, siccome aumenta il numero di costituenti cambia l'intensità della forza e quindi non so, diciamo per esempio io ho più costituenti, è come se la forza fosse diffusa, distribuita tra più costituenti e quindi diventa più debole. Ci sono molte teorie, in particolare tutte le teorie di Gage non abeliane che hanno certe caratteristiche come quelle del moderno standard, in cui succede proprio questa cosa, quindi io vado a distanze più corte e le forze restano quelle che sono, però diventano sempre più deboli, sempre più deboli, sempre più deboli e questo si chiama libertà sintotica perché asintoticamente a distanze asintoticamente corte tutto è libero, non c'è più nessuna interazione, le cose spariscono e volano tutte libere, ciascuna nella sua direzione indipendente. C'è una domanda qui. Due domande molto rapide. Primo perché l'interazione con il campo di X non viene normalmente inclusa nella lista delle interazioni fondamentali e la seconda è che si diceva che non ci sono interazioni che dipendono dalla velocità ma l'interazione magnetica dipende dalla velocità. Allora, la ragione per cui, quindi sono due domande molto diversi, la ragione per cui il campo di X è incluso tra interazioni fondamentali è semplicemente perché è stato scoperto cinque anni fa e perché la situazione è così insoddisfacente. Se lei va a vedere appunto l'articolo di giudice che ho già più volte citato, a un certo punto il giudice dice beh, guardate che in realtà da quando abbiamo scoperto il campo di X le interazioni fondamentali da 4 che erano sono diventate 21 perché il campo di X ha 17 diverse interazioni con le diverse. Naturalmente, appunto, questa è una situazione molto antipatica. Quindi se davvero il campo di X c'è ed è fondamentale, ahimè dovremmo mettere questa lista di interazioni. Allora, per quanto riguarda le interazioni che dipendono dalla velocità, sì, devo dire che io ho leggermente barato. Dunque, quando io ho parlato di interazioni dipendenti dalla velocità, quindi per dire le interazioni dipendenti dalla velocità sono, diciamo, non sono i varianti di scala, intendevo interazioni dipendenti dalla velocità macroscopiche, quindi ho fatto un esempio macroscopico. Quindi quelle che dipendono dalla scala sono le interazioni non relativistiche dipendenti dalla velocità. Se io scrivo una teoria relativistica, a quel punto possono esserci interazioni che dipendono dalla velocità, come l'interazione magnetica, purché abbiano una struttura opportuna che è appunto la struttura di gauge. Quindi, strettamente parlando, ho un parato per cercare di mostrare un fenomeno che si capisce intuitivamente, ma l'affermazione che interazioni dipendenti dalla velocità dipendono dalla scala è vera solo nel caso non relativistico. Professore, volevo chiedere, il fatto che il bosone di X sia risultato innaturale, come viene definito, non so se da lei o da altre persone. Da tutti. Da tutti, ecco. Va bene, è la prima volta che lo sento, anch'io. Questo è sinonimo di impossibile, o meglio, precisiamo, X ha predetto, ha fatto questa teoria del bosone nel 1960, più di 50 anni, no? Allora, l'ha predetto in questo modo che è risultato, oppure lui ha predetto altre cose? Quindi il risultato è diverso da quello che ha predetto lui? Questo volevo sapere, non ho creduto. No, beh, diciamo, questa è una buona domanda. Diciamo che il lavoro di X, come lei giustamente sottolinea, è molto antico, è degli anni 60, e quindi predata tutta la costruzione del modello standard, della teoria standard. Quindi quello che X ha fatto vedere è stato un meccanismo attraverso il quale può succedere quello che succede nel modello standard, e cioè che delle particelle hanno certe masse pur avendo delle simmetrie, è cosa che sembrerebbe incompatibile superficialmente. Quando X ha formulato questo meccanismo, però diciamo l'ha formulato in un certo senso in termini generici, cioè ha fatto vedere che ci può essere un modo per costruire delle teorie che hanno certe caratteristiche, che poi questo meccanismo venisse o meno usato in una teoria fondamentale, era ben al di là di quello che X, del problema che X si poneva. Resta il fatto che fin dagli anni, mi ricordo quando ero studente io, quindi ormai parecchi anni fa, negli anni 80, quindi 20 anni dopo X, tutti dicevano, beh sì, il meccanismo di X, a me insegnavano, il meccanismo di X potrebbe funzionare, però di sicuro non è fondamentale, perché non possiamo pensare, per la ragione che ha spiegato, perché è innaturale, quindi diciamo che il meccanismo di X potesse funzionare, però fosse innaturale, è una cosa che si è più o meno sempre pensato. Quello che sorprendentemente è successo nel corso degli anni è che tutto il resto è sparito ed è rimasta la teoria standard con il meccanismo di X e nient'altro, e questa è una cosa che, diciamo, è l'unica ragione per cui non è così terribilmente sorprendente che ci siamo arrivati piano piano con una serie di esperimenti in cui ogni volta si diceva, beh, ora scopriremo la supersimetria, qualche cosa, la natura composite, e non si scopriva mai, però si pensava anche, ah beh, adesso il modello standard smetterà di funzionare, e invece no, il modello standard continua a funzionare, e questo è successo nel corso degli ultimi 25 anni più o meno, appunto, da quando ero studente io, e quindi questo problema è diventato pian piano sempre più grande come una casa. Quindi inizialmente quello che si pensava è che questo fosse un meccanismo efficace, una cosa che succede, ma che però ha poi un'altra spiegazione soggiacente in termini di oggetti più elementari che quindi non creano questi problemi di naturalenza. Io terminerai qui, vi ricordo il prossimo appuntamento, il 13 dicembre, dal titolo appunto Il Bosone di X, 5 anni dopo, una visione dal nostro collega di Roma 3, Biagio Di Micco, che sarà, diciamo, più sperimentale. Fuori ci sono, come al solito, la lista per chi vuole l'attestato, lasciate nome, cognome, indirizzo e mail. Io vorrei ringraziare di nuovo il professor Forte per essere venuto a fare questo bellissimo seminario. Grazie, grazie a voi di essere intervenuti.